Buongiorno a tutti. Le politiche estere della Casa Bianca non cambiano la narrazione. Non si esprime con concretezza l'utilità dell'invio di sostegno militare a Kiev. Orsini lo diceva e sembrerebbe che Kiev pagherà il prezzo più alto. Europa senza personalità esegue gli ordini di Biden. Il dibattito culturale si abbassa molto se noi diciamo che Putin è pazzo e Crosetto è sciocco. In realtà sono tutti attori razionali che perseguono degli obiettivi ben precisi. Dal punto di vista strategico penso che Crosetto abbia gravemente torto perché se la Russia conquistasse Kiev la terza guerra mondiale certamente non scoppierebbe perché gli Stati Uniti non hanno un interesse a far scoppiare la terza guerra mondiale per riconquistare Kiev. Gli Stati Uniti Biden ha un interesse a dissanguare la Russia, ha un interesse che la guerra in Ucraina vada avanti per completare il processo di separazione della Russia dall'Europa, ha un interesse che la guerra sia moderata e prolungata, moderata affinché non degeneri nella guerra nucleare che è contraria agli interessi americani e prolungata deve durare il più a lungo possibile affinché il processo di separazione tra la Russia e l'Europa e soprattutto tra la Germania e la Russia sia definitivo. Se lui conquistasse l'Ucraina tremerebbero le Repubbliche Baltiche, tremerebbe la Polonia e tutto lo scenario diventerebbe incandescente. Ma ti sembra una previsione realistica adesso, a parte quello che pensa il nostro Ministro della Difesa? Mi sembra realistico che lui possa avere dei successi in virtù di questi 300.000 riservisti e non a caso... Ma non allargandosi ad altri Stati? No, però se lui ha del successo in Ucraina, a questo punto tutta l'Europa si agita, tutta l'Europa dell'Est si agita, diventa molto... e infatti è per questo che noi li abbiamo rinforzati subito, per scongiurare questa cosa. Per questo noi la stiamo armando, perché c'è stata un'alzata del livello dei rifornimenti con i carri armati, poi arriverà la difesa antimissile che arriverà fra qualche mese, però è in dubbio che l'Occidente è più allarmato oggi che sei mesi fa. Proviamo a utilizzare la logica, che cosa ha dato finora l'Occidente all'Ucraina? L'Occidente all'Ucraina ha dato centinaia di miliardi di dollari, ha dato gli Atax, ha dato gli Imars, ha dato gli Storm Shadow, ha dato gli Sculp, ha dato i Challenger, ha dato gli Abrams, ha dato i Leopard, ha dato i Samp-T, ha dato i Patriot, ha dato le bombe di aggrappolo, ha dato tante altre cose. Raccontalo allora, che ci fai ridere pure noi. Noi diciamo che il nostro aiuto è aiutarli a non perdere la guerra, questo è fondamentalmente. E questo... E che vuol dire a non perdere la guerra? A tenere duro. E quindi questo significa che questa situazione a strappi... Questo significa che la possono vincere, secondo te? Che la possono tirare molto in lungo. Lo allunghi quanto vuoi, fino a quattro volte la sua altezza. In attesa che accada qualcosa. E cosa accade? Gli Stati Uniti, la CIA dicono, in attesa di un golpe. Chiaramente il golpe, se lo fanno i russi, non è che prima informano gli americani, perché sono cose che non è che si informano. Però è destinata a durare a lungo. E tutto l'Occidente ha questo sforzo di far durare più a lungo possibile la guerra, perché si teme che se finisca ci saranno disegnari addirittura peggiori. Però, se noi avessimo trattato, quando io lo proponevo il 24 febbraio, gli ucraini oggi starebbero molto meglio. Ed è quello che io invito a fare. E qui dice no all'Occidente, perché l'Occidente dice, no, lui vuole tutta l'Ucraina e lo sviluppo della guerra lo sta dimostrando. Senaldi, allora, le spiego quale sia la posta in gioco. La posta in gioco è che la Nato ha messo per iscritto e continua a mettere per iscritto che l'Ucraina entrerà nella Nato. Johnson, tutti avranno seguito di queste presunte minacce che Johnson avrebbe ricevuto da Putin. Che cosa ha rivelato Johnson? Ha reso pubblico quello che ho sempre detto. Cioè, ha rivelato che oggetto della telefonata era l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Infatti Johnson racconta alla BBC, virgolettato, io ho detto a Putin, stai tranquillo, l'Ucraina entrerà nella Nato, ma non ora. Questo che vuol dire? Che l'oggetto della conversazione tra Johnson e Putin, prima dello sfondamento del fronte, era l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Il 14 giugno 2021, la Nato si è riunita a Bruxelles, ha pubblicato un documento che consta di 79 articoli, all'articolo 69 è scritto che l'Ucraina entrerà nella Nato. Quindi non è semplice, ma non perché non sia possibile farlo. Ma se non facessi, potrebbe davvero segnare un'interzione. Ma stiamo scherzando? Guardi, io se vuole, allora io le dico questo, se la Nato facesse un meeting a Bruxelles, come quello del 14 giugno solenne, con tutti i capi di Stato, e mettesse per iscritto che l'Ucraina non entrerà mai nella Nato, si aprirebbe subito una trattativa, probabilmente Putin, delle cinque regioni che ha annesso, discuterebbe almeno di due regioni, che sono Carson e Zaporizia, si andrebbe verso un'attenuazione del conflitto, se non un cessate il fuoco immediato. Se vuole, io lo scrivo. La Nato fa un meeting del genere, lo mette per iscritto, io le dico che dopo un minuto la guerra in Ucraina si ferma e si discute. Certamente, ma questo deve essere il punto d'arrivo della trattativa, non il punto di partenza. Io quello che vorrei che fosse chiaro è come funziona in generale la politica internazionale e la storia degli uomini. Funziona in questo modo. Per Biden, che è il capo assoluto di questa situazione, è molto più importante che la Finlandia, la Svezia e l'Ucraina entrino nella Nato della vita di migliaia di persone. Per Biden, se le dice, scusa Biden, secondo te conta di più la vita di 10 milioni di ucraini che magari moriranno o l'ingresso della Finlandia nella Nato? Biden le dice, io preferisco che morirono 10 milioni di ucraini e che la Finlandia entri nella Nato. Va bene, Biden non ha detto una parola. Biden vuol continuare la guerra. La guerra è un affare troppo grosso per farselo sfuggire. Il pacchetto vale oltre 95 miliardi di dollari, 89 miliardi di euro. Più di 60 miliardi andranno all'Ucraina per addestrare soldati, finanziare operazioni di spionaggio e rifornire l'esercito di armi. Che cosa potranno mai fare gli ucraini con questi soldi, con questi miliardi? La risposta è praticamente niente. Fra 12 mesi gli ucraini avranno ancora meno territori, ci saranno ancora più morti, l'esercito ucraino sarà ancora più devastato e purtroppo le città ucraine saranno ancora più devastate. Il Cremlino è irritato anche se Putin ostenta sicurezza, come quando Kiev ha ricevuto i lanciarazzi Heimars o i carri armati Leopard. Nessuna arma convenzionale decide una guerra, ma più armi girano e più guerre si fanno. L'Ucraina ha utilizzato tutto questo nella controoffensiva iniziata al 5 giugno del 2023 e i risultati di questa controoffensiva sono stati nulla. Ora, se l'Ucraina ha già ricevuto centinaia di miliardi di dollari e tutte le armi e gli armamenti che ho elencato per trovarsi in una condizione di disperazione assoluta, secondo voi. Che cosa potrebbe mai cambiare con questi 14 miliardi che il Pentagono spenderà per acquistare armi da dare a Zelensky? Washington le comprerà direttamente dalle aziende americane, i colossi dell'industria bellica mondiale, e le girerà a Kiev. Ma la legge serve pure a rifornire le scorte statunitensi, calate assai per il massiccio trasferimento all'Ucraina di questi anni, che ora continua e aumenta con munizioni, cannoni, missili, i Patriot per difendersi dagli attacchi russi e gli Atams per colpire fino a 300 chilometri, ben oltre il confine. Il problema è ritardare l'avanzata russa affinché l'Ucraina non crolli prima delle elezioni di giugno per il Parlamento europeo, perché se crollasse prima poi i nostri bellicisti in Italia dovrebbero metterci la faccia. Il problema innanzitutto è arrivare anche per i partiti politici italiani, arrivare alle elezioni di giugno per il Parlamento europeo con l'Ucraina ancora in piedi, magari su una gamba sola ma ancora in piedi. E poi il secondo problema è arrivare a novembre, novembre quando si voterà per la Casa Bianca. Biden ha assoluto bisogno che l'Ucraina continui a combattere almeno fino a novembre, perché non vuole ritrovarsi in campagna elettorale con il crono dell'esercito ucraino. Questa legge renderà gli Stati Uniti e il mondo più sicuri. Gli aiuti partiranno nelle prossime ore, ha detto poco fa Biden, firmando il pacchetto di aiuti militari a Ucraina, Israele e Taiwan approvato dal Congresso. Ieri al Senato anche un gruppo di repubblicani ha votato sì dopo mesi di opposizione. Nella stragrande maggioranza dei casi i giovani ucraini maledicono l'Occidente, che prima ha fatto di tutto perché questa guerra scoppiasse, poi non ha fatto niente perché si fermasse, anzi ha fatto di tutto perché infuriasse sempre di più. Adesso continua a inviare armi sapendo che gli ucraini non possono vincere questa guerra, possono soltanto arretrare. Ed è interessante, se voi analizzate, io sono molto interessato all'analisi comparata, alla comparazione storica e quindi anche all'analisi comparata dei documenti scritti. Se voi ponete a confronto gli articoli dei media americani del 2022-2023 con quelli attuali, quindi fate proprio un'analisi comparata, anche in maniera molto semplice, una stampante, diciamo così, e stampate gli articoli, li mettete su una scrivania e li ponete a confronto tra di loro. Gli articoli 2022-2023 che parlano della guerra in Ucraina e gli articoli attuali. Quelli di oggi, quelli che escono mentre sto parlando, dicono che questi soldi rallenteranno l'avanzata russa. Non dicono più quello che dicevano nel 2022-2023, cioè questi miliardi consentiranno all'Ucraina di sconfiggere la Russia. Quindi nemmeno più i media americani, i media più pro-Nato, pro-Zelensky, pro-Biden, sperano, credono che l'Ucraina possa vincere questa guerra. Questo non sono io che lo dico, è l'analisi comparata dei documenti scritti. Non riusciamo a credere che l'Europa si lasci trasportare nell'onda di questa follia. La narrazione non cambia, nessuna trattativa e qualcuno pensa di salvarsi le chiappe con la pelle di un popolo ridotto alla miseria. Grazie per averci seguito. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. Grazie a coloro che lo hanno già fatto.